L'acido benpedoico rappresenta una innovazione terapeutica particolarmente rilevante nel contesto della gestione clinica dell'ipercolesterolemia. Perché questo? Perché questo farmaco ha delle caratteristiche uniche nel panorama terapeutico proprio di gestione delle alterazioni del profilo lipidico e dell'ipercolesterolemia in particolare. È un inibitore enzimatico, inibisce un enzima che si chiama ATP citratoliasi. Questo enzima è presente a livello epatico e fa parte della cascata biosintetica del colesterolo a monte dell'enzima che abitualmente viene inibito dalle statine. Ma qual è la caratteristica in qualche modo particolare di questo farmaco? Questo farmaco quando viene assunto dal paziente in realtà è un farmacologicamente inerte, è un profarmaco, non ha alcun effetto biologico. Però viene convertito in un principio attivo farmacologicamente attivo e quindi che modifica i fenomeni biologici solo a livello epatico. L'epatocita lo converte nel principio attivo e il principio attivo inibisce l'ATP citratoliasi. Questo avviene solo a livello epatico e tra l'altro avviene all'interno della cascata biosintetica in cui agiscono anche le statine e quindi può essere utilizzato anche ove necessario in combinazione con le statine. Questo fa sì che il farmaco abbia diversi vantaggi. Il primo qual è? Il primo è che non produce effetti sui muscoli perché non è presente in formativa a livello muscolare quindi i pazienti trattati con ben pedoico in realtà non hanno mielgie come può accadere invece con le statine e questo è un primo effetto particolarmente favorevole. L'altro aspetto è che un farmaco flessibile può essere usato in combinazione con tutti gli altri farmaci che noi utilizziamo abitualmente il trattamento dell'ipercolesterolemia quindi statine, ezetimibe e anche anticorpi monoclonali, ibitro del PCSK9. Quindi è un farmaco flessibile che si integra con tutte le altre armi a nostra disposizione per raggiungere gli obiettivi terapeutici raccomandati dalle linee guida. Le indicazioni di questo farmaco sono le indicazioni generali proposte dall'EMA e recepite dell'AIFA che prevedono praticamente che possa essere utilizzato in combinazione con tutte le altre categorie di farmaci al fine di raggiungere gli obiettivi terapeutici raccomandati dalle linee guida. Quindi diciamo le indicazioni sono molto generali. C'è da dire che poi nel nostro paese l'AIFA prevede l'impiego di un particolare piano terapeutico che è a disposizione di tutti gli specialisti e di tutti i medici operanti nel Servizio Sanitario Nazionale che possono prescrivere questo farmaco una volta rispettando le regole in esso contenute. Quindi il raggiungimento di determinati obiettivi target terapeutici in rapporto alla terapia già in atto. C'è anche da dire che il farmaco è molto utile perché è disponibile in un'associazione precostituita con ezetimibe. Il farmaco da solo in monoterapia ottiene una riduzione della colesterolemia LDL compresa fra il 20 e il 25%. Quando utilizzato in combinazione con ezetimibe la riduzione della colesterolemia supera il 40%. Quindi si comprende facilmente come ad esempio in un paziente intollerante alle statine che prima poteva raggiungere una riduzione a malapena del 20% con la sola ezetimibe adesso può avere dei risultati molto più favorevoli, inimmaginabili in passato, paragonabili a quelli di una statina moderata e efficace utilizzando l'associazione precostituita.